Ancora arresti nel parco del Colle del Pionta ad Arezzo, i carabinieri della sezione radiomobile sono entrati in azione nel pomeriggio dello scorso 7 giugno e hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino marocchino quarantenne senza fissa dimora e pregiudicato. L'uomo addosso aveva 17 grammi di hashish già suddivisi in dosi. Il Tribunale di Arezzo ha convalidato l'arresto per direttissima e rinviato a giudizio l'uomo che adesso ha il divieto di ritorno nel comune di Arezzo. Nel pomeriggio del 10 giugno i carabinieri di Arezzo in collaborazione con le stazioni di Rigutino e Pergine-Valdarno hanno invece controllato un quarantenne italiano disoccupato, pregiudicato e nei suoi confronti hanno anche eseguito una perquisizione domiciliare. Nell'abitazione dell'uomo sono stati rinvenuti e sequestrati 35 grammi di sostanza stupefacente, cocaina nello specifico ma anche oppio, maruana e hashish e ancora bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. C'erano anche 1120 euro in contanti, chiaro provento di spaccio. L'uomo aveva anche due pistole giocattolo in acciaio prive del tappo rosso. Il quarantenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e deferito per detenzione abusiva di armi.